Il 10 aprile scorso è partita in tutta Italia la raccolta di 500.000 firme per tre referendum che si propongono di modificare il sistema elettorale italiano. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il meccanismo delle preferenze, da cui si generano il clientelismo e la corruzione. Si vuole cioè abrogare il meccanismo di elezione dei nostri rappresentanti perché i partiti, grazie al sistema proporzionale, hanno raggiunto uno strapotere che la Costituzione non aveva loro assegnato. I referendum non sono però contro i partiti, ma contro la partitocrazia e a proporli, e non è una casualità, è un ampio schieramento che raccoglie esponenti di quasi tutte le forze politiche, dai comunisti ai democristiani, non tutti però, Andreotti ha detto che non ci sta, dai radicali ai repubblicani, dai verdi ai liberali. Unici oppositori di questi referendum sono i socialisti, che continuano a volere esclusivamente la Repubblica Presidenziale. Ma vediamo in sintesi che cosa propongono. Al Senato i senatori sarebbero eletti con un sistema uninominale, in sostanza chi ha più voti viene eletto. Alla Camera gli elettori voterebbero per uno e uno solo dei candidati presenti nelle liste dei partiti e questo moralizzerebbe non poco la nostra vita pubblica. Infine le giunte degli enti locali sarebbero elette con più facilità, poiché sarebbe esteso anche ai comuni con più di 5.000 abitanti il sistema maggioritario. La posta in gioco, come si suol dire, è alta. Se dovessero passare le proposte referendarie, i partiti vedrebbero drasticamente ridotto il loro potere, o meglio, l'abuso del loro potere. Agli elettori, per contro, verrebbe riconosciuto il diritto non solo di scegliere i propri rappresentanti, ma anche di decidere davvero sul governo del Paese a tutti i livelli, da quello comunale a quello centrale.